Vigilia di Picerno Crotone, siamo con mister Zauli che è pronto a rispondere alle domande in vista del turno infrasettimanale. Iniziamo da Giuseppe Rivadotti per la provincia KPR. Troppe errori a centrocampo e attacco che ha perso la sua efficacia. Contro il forte Picerno metterà in essere il turnover a causa dei tre turni ravvicinati? No, adesso a prescindere dagli errori che possiamo aver commesso nell'ultima partita, penso che adesso giocavamo contro una squadra molto forte come Benevento che aspirerà sicuramente anche loro ad arrivare tra le prime. Per quanto riguarda Picerno è una squadra che sta facendo bene sin dall'anno scorso, ha perso due partite negli ultimi 19 e quindi sappiamo quanto possa essere difficile, quanto sia insidioso il loro campo, quanto possano giocare bene. Le tre partite è normale che cercheremo di sfruttare tutte le risorse della Rosa perché questa è una Rosa comunque competitiva e quindi è giusto che anche qualche altro ragazzo abbia dello spazio e dimostrare il proprio valore per cercare di andare a fare una grande partita là. Tuminello recupera lo stato fisico per essere schierato? No, ha un problema e quindi sicuramente non sarà della partita. Claudio Berlingeri, Gazzetta del Sud, si affronteranno due squadre che amano giocare a viso aperto con il Picerno che ormai è una realtà forte di questo campionato. Che gara si aspetta? Come ci siamo detti, un po' come l'ultima col Benevento, due squadre propositive che provano a giocare. Il Picerno non la posso considerare assolutamente una sorpresa. È sempre considerata dai più una sorpresa proprio per il suo non blasone, diciamo così, ma in questa realtà è una realtà forte che gioca bene e quindi noi dovremmo fare una grande partita. E mi aspetto una partita dove i duelli fanno la differenza e dove la qualità tecnica in un campo così piccolo, stretto e veloce può fare la differenza. Degli infortunati recupera qualcuno? Adesso ormai siamo rientrati con Gigliotti e Bove che sono rientrati, però sicuramente tutti gli altri non saranno della partita. Gianfranco Torino e Rosso Blu. Il Crotone non sa più vincere, tre punti nelle ultime quattro partite nonostante le buone prestazioni. Sono un segnale di allarme oppure c'è una lettura diversa? No, è tutto una domanda. Noi abbiamo l'obbligo di portare a casa delle buone prestazioni, solo tramite le buone prestazioni possono arrivare le vittorie. Abbiamo, secondo me, in tutte queste volte buttato via la possibilità di vincerle, la squadra avrebbe potuto vincere, abbiamo commesso degli errori in fase offensiva, in fase difensiva che non ci hanno permesso di portare. Però siamo usciti sempre con delle ottime prestazioni, a prescindere dal secondo tempo di Cerignola, dove abbiamo veramente buttato via una vittoria che la squadra si era costruita in maniera ottima nel primo tempo. Sorrento e Benevento sono state due partite dove la squadra ha provato a vincere, non è arrivata la vittoria in un campionato molto difficile, quindi adesso andremo a Picerno, però con l'obiettivo comunque di vincere la nostra partita. La partita con il Benevento ha evidenziato una difficoltà, forse per la prima volta, ad arrivare sul fondo per crossare. Sta studiando modi diversi per approcciare l'area avversaria? No, ma le occasioni migliori le abbiamo create proprio dal fondo, perché comunque però è stata una partita molto combattuta, dove anche sugli esterni e anche dall'altra parte le squadre si sono un pochino annullate a vicenda, e quindi è stata una partita difficile, non è che una sola partita può dimostrare quali possono essere le difficoltà di una squadra. Lei è qui a Crotone da un anno preciso, ieri è stato il suo compleanno in Rosso-Blu, questo che è arrivato precisamente il 13 febbraio 2023. Potrebbe già dare un giudizio di quest'anno solare? C'è un aggettivo che potrebbe usare per questi 365 giorni? No, ma qui il risultato è uno solo, quindi non va dietro risultati. Io dico solo di essere orgoglioso di far parte di una società così importante, la conoscevo dall'esterno e adesso ho la fortuna di viverla dall'interno da un anno, e quindi mi rendo conto che sono arrivato veramente in una realtà molto importante, società molto seria, molto competitiva, molto competente, quindi sono orgoglioso di aver fatto parte di questa famiglia e di far parte di questa famiglia. Procolo Guida, la CNews24 è Crotone in forma, mister, il Picerno è famoso per il presidente che è visto e chiamato lo zio d'America. Ci dica da cosa o da chi si aspetta eredità inaspettate dalla svolta di campionato, visto che un altro esonero sventato dagli calciatori è oggettivamente impossibile? Dal Picerno non mi aspetto niente, chiaramente noi andremo lì per fare la nostra partita, giochiamo contro la seconda in classifica, quindi noi siamo là dietro, e quindi i punti di classifica in mano è una partita molto molto importante. Per quanto riguarda la seconda parte del campionato, la seconda parte della domanda lascia il tempo che trova, perché comunque questa squadra dal mio esonero su 17 partite ne ha perse due, non penso che siano numeri da essere un allenatore, però non aspetta a me dare risposte del genere, insomma io devo pensare alla partita e che la squadra giochi bene domani. Gabriele Pio Piccolo per Stadio Radio, il Picerno arriva a questa partita con una sola sconfitta subita in casa contro la Juve Stabia, è inoltre la terza miglior difesa del campionato, anche se la maggior parte dei gol subiti sono arrivati nel secondo tempo, è proprio in quella fase dove le energie vengono meno che il Crotone dovrà saperne approfittare? La difficoltà della partita è oggettiva, abbiamo guardato, il Picerno l'ultima partita l'ha perso con la Juve Stabia, è la penultima partita che ha perso qui con noi in casa, quindi vuol dire che in tutto il girone lui ha perso solo con la Juve Stabia, quindi capiamo benissimo la qualità di questa squadra e la difficoltà, però altrettanto abbiamo fatto noi, abbiamo due sconfitte da 17 partite, quindi sono due squadre che, come ci siamo detti in qualche domanda prima, sono due squadre che vogliono vincere la partita, giocheranno per vincere la partita e quindi il dettaglio farà la differenza sicuramente, la qualità tecnica sicuramente. Il Picerno è il secondo migliore attacco del girone, dopo di noi, dopo il Crotone, fino alla decima giornata però ha sempre mantenuto la metà classifica, poi affidandosi soprattutto alle qualità di Murano, attuale capocannoniere, ha fatto un grande salto in avanti. In una partita fondamentale come questa, quali sono i fattori sia tecnici che mentali dell'avversario da cui far maggiormente attenzione? Basti vedere il Picerno, è una squadra che gioca a memoria, che fa tante soluzioni, ha trovato in un finalizzatore importantissimo che può fare la differenza perché in area di rigore sta facendo un'annata strepitosa e quindi fa la differenza nei risultati, però è una squadra allenata bene, l'abbiamo detto anche il giorno d'andata, lo sta dimostrando, quindi noi dobbiamo andare lì a fare bene tutte e due le fasi perché è importante farlo per limitarli. Poi noi siamo una squadra che li ha battuti, quindi noi sappiamo anche nelle nostre corde che possiamo andare lì a fare la nostra partita, la faremo con autorità e cercheremo di andare a vincere.